NAPOLETANA GAS Attraverso Italgas fa parte del gruppo SNAM, per questo porta sul territorio locale l'esperienza di un gruppo leader europeo nelle attività regolate del gas. Punto di forza di Napoletana Gas sono le straordinarie professionalità che mette in campo, formate in ogni dettaglio all'interno dell'azienda. Qualità, sicurezza, efficienza e innovazione sono le caratteristiche che fanno di Napoletana Gas un'eccellenza nel settore dell'energia, testimoniata da grandi numeri. Il servizio è mantenuto su standard elevatissimi grazie a strumenti altamente innovativi, come il Centro Integrato di Supervisione Italgas, che presidia costantemente il sistema di telecontrollo degli impianti, o come il Workforce Management, un sistema informatico che mette in relazione tra loro le banche dati aziendali, il sistema di programmazione degli interventi e l'area di consultivazione, rendendo tutti i dati disponibili in tempo reale per gli operatori tramite comodi dispositivi portatili. L'innovazione di Napoletana Gas poggia su basi solidissime, il know-how consolidato di una delle prime aziende del gas in Europa. Fondata nel 1862, la società compie oggi 150 anni, durante i quali è sempre stata proiettata nel futuro, esattamente come oggi. Napoletana Gas. Da 150 anni, il futuro della Campania.